Salve tutti amici di Spazio e buon Cyber Monday a tutti perché si è appena conclusa la settimana del Black Friday e ciò vuol dire che se non avete ancora speso tutto il vostro patrimonio in regali di Natale oggi Amazon ci propone interessanti offerte su prodotti relativi per lo più al mondo della tecnologia fra centinaia di offerte e promozioni noi abbiamo fatto una lista dei prodotti maggiormente scontati e quelli di maggiore interesse fra le promozioni che ripeto ancora una volta saranno disponibili da subito quindi dalla mezzanotte di oggi per tutta la giornata fino ad esaurimento scorte prima di iniziare vi invito a mettere un mi piace a questo video ma anche di iscrivervi al canale e di fare un clic sull'icona della campanellina per attivare le notifiche eccoci qua allora ci siamo organizzati con dei QR code per ogni prodotto che comparirà qui da qualche parte sullo schermo voi non dovrete far altro che inquadrare questo QR code con la fotocamera del vostro iPhone e questa vi rimanderà automaticamente all'app di Amazon dove potrete procedere con l'acquisto iniziamo subito con questo altoparlante wireless bluetooth di Ultimate Ears ovvero il Boom 2 nel color ossidiana che passa da 99 euro a 69,90 euro si tratta di un perfetto regalo ipotetico per Natale perché si tratta di uno di quegli speaker moderni che emettono suoni a 360 gradi è anche waterproof quindi anche molto resistente e poi grazie alla modalità party ci permette di essere collegato in serie con altri 150 speaker per fare ad esempio festa con i vostri amici con una qualità audio davvero impressionante però se avevate voglia di spendere un po' meno abbiamo come alternativa al Boom 2 questo Wonder Boom ovvero la versione ridotta che comunque sia resta molto resistente e soprattutto waterproof grazie alla certificazione IPX7 che è disponibile al prezzo di 49,90 euro anziché 75 euro però solamente nella colorazione avocado ovvero questa ma anche nella colorazione concrete che è questa particolare con questa trama sul nero per concludere questa parentesi riguardante l'audio vi segnalo anche questi fantastici auricolari in ear clean fusion molto particolari perché guardate un po' hanno dei gommini in schiuma memory cosa che sinceramente non avevo mai visto prima e poi sono molto completi anche perché qui guardate un intero set di gommini una pinzetta che ci permette di collegare gli auricolari un po' dove ci pare ma anche uno sdoppiatore in out quindi per microfono e uscita audio che ci permette di collegarlo a computer che hanno in e out appunto separati non è un grande sconto perché passiamo dai 19,99 euro ai 14,93 euro però secondo me vanno provate sono molto particolari e poi l'offerta è valida sia per la colorazione verde ma anche per la colorazione nera, blu e arancione ma adesso cambiamo totalmente tipologia di prodotto perché ci spostiamo un pochino sulla domotica fatta in casa che quest'anno sta andando per la maggiore su cui Philips è il monopolio almeno per quanto riguarda tutto il comparto illuminazione ma partiamo dal primo prodotto scontato di oggi Philips Living Colors Bloom che in realtà è il prodotto di Philips un po' meno domotico che possiamo trovare sul mercato che passa da 61,41 euro ad addirittura 31,19 euro quindi quasi la metà si tratta sostanzialmente di una lampada da tavolo led da 8 watt in questo caso con scocca bianca si tratta comunque di un bel prodotto di un ottimo prodotto di design dicevo molto poco domotico in quanto non si collega allo smartphone non è collegato ad internet ma può essere comandato direttamente dal suo telecomandino che ci permette di variare l'intensità della luce ma anche il suo colore come state guardando anche in questa immagine di anteprima un prodotto molto bello ma passiamo appunto alla domotica abbiamo qui uno starter kit ovvero Philips Hue White dotato di due lampadine smart in confezione ma anche di un bridge che ci permette di coordinarle e ci permette di metterle appunto in rete in questo caso questo starter kit pasta da 111,16 euro ha addirittura 69,90 euro quindi un prezzo davvero ottimo e come potete vedere da queste immagini può essere comandato il tutto quindi possiamo decidere di fare una luce più soffusa una luce più accesa direttamente dal tablet o dallo smartphone tramite un'apposita applicazione ma andiamo avanti perché oltre alla Philips Hue White abbiamo anche la Philips Hue White and Color in questo bundle da tre pezzi abbiamo sostanzialmente tre di queste lampadine che ci permettono non solo di utilizzare una luce bianca ma anche una luce colorata come guardate dalle immagini di anteprima in questo modo il tutto naturalmente può essere gestito da applicazione può essere gestito da smartphone ma anche da Apple Watch come stiamo guardando in questo momento Amazon ci tiene anche a sottolineare che c'è la piena compatibilità anche con Alexa quindi possiamo anche attivare queste lampadine connesse ad internet tramite i comandi vocali e questo set di tre lampadine passa da 153,04€ a 89,99€ che non sono pochi ma ci portiamo a casa sostanzialmente tre lampadine smart altro prodotto molto ambito e particolare sono le Philips Hue Light Strip quindi le classiche strip led di Philips che possono essere comandate tramite smartphone tablet eccetera eccetera insomma con le stesse modalità viste poco fa la particolarità di questo bundle che comprende una confezione con strip da 2 metri e un'altra con strip da 1 metro è che queste strip possono essere assemblate quindi possiamo collegarle in serie tramite l'apposito connettore per creare appunto una striscia led da 3 metri che passa da 77,50€ a 49,99€ però io poi concluderei con questo bundle definitivo che comprende un bridge una lampadina smart white and color e anche una strip da 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 non mi dice da quanti centimetri non me lo dice non me lo dice non me lo dice 2 metri da 2 metri sostanzialmente che passa da 166,36€ a 109,99€ che è comunque un prezzo altino ma vi portate a casa sostanzialmente tutto il comparto illuminotecnica in versione starter kit di Philips quindi comunque sia io un pensierino ce lo farei sempre restando nel campo degli accessori smart voglio segnalarvi anche queste prese intelligenti di Technic prese intelligenti che ci permettono di monitorare tramite smartphone consumi e utilizzo appunto delle stesse prese dei dispositivi che andiamo a collegare a queste prese quindi sicuramente comportano un risparmio nel tempo passano da un prezzo di 27,99€ già un prezzo bassino ad addirittura 18,74€ io penso che siano degli ottimi prodotti anche perché naturalmente abbiamo la possibilità di temporizzarle quindi determinare l'accensione e lo spegnimento programmato ma anche di attivarle a distanza tramite comandi vocali perché sì Amazon qui ci sottolinea il fatto che è compatibile pienamente con Alexa ma è compatibile naturalmente anche con tutti gli altri sistemi più famosi come ad esempio appunto il sistema Google e il sistema Apple tramite HomeKit in questo bundle ne abbiamo sostanzialmente due di prese qui viene sottolineato anche il fatto che sono compatibili con iOS e Android appunto ma è disponibile anche un altro bundle da addirittura 4 pezzi che sono poi esattamente gli stessi ce ne sono solamente di più ad un prezzo comunque vantaggioso che passa da 49,99€ quindi 50€ a 34,99€ che è ancora un prezzo molto abbordabile adesso passiamo a prodotti che costano sicuramente molto meno come ad esempio questo cavo USB USB tipo C non lo so ci può servire per i nuovi iPad ci può servire per un sacco di smartphone attuali per la ricarica e il trasferimento di dati a computer si tratta di un prodotto Amazon Basic che già di suo costa molto poco ma che passa dai 9,29€ ai 6,50€ insomma abbiamo un 3€ circa di differenza un 2€ e qualcosa poi abbiamo questo adattatore questo è molto comodo ad esempio per i nuovi iPad perché ci permette di ampliare la compatibilità di accessori compatibili abbiamo un ingresso USB-C da un lato invece un ingresso USB tipo A dall'altro o meglio un'uscita USB-C e un ingresso USB-A di tipo 3.1 quindi comunque veloce passa da 12,99€ a 9,09€ per poi andare oltre con questo cavetto USB tipo C USB tipo C molto comodo per i nuovi MacBook passiamo anche in questo caso da 8,99€ a 6,29€ ma adesso voglio mostrarvi un prodotto comunque leggermente più interessante ovvero questo hub con 4 porte 3.1 USB 3.1 che può essere collegato tramite lo spinotto USB tipo C ai nuovi MacBook per ampliare il comparto porte per così dire in questo caso può essere un'ottima alternativa anche perché va a costare 17,59€ in alluminio si adatta tranquillamente ad alcune tinte dei nostri nuovi computer dei nostri nuovi PC e Mac quindi un prodotto assolutamente consigliato poi ci sono qui anche delle strip adesive con il velcro che ci permettono di agganciarlo alla scrivania se vogliamo fare una postazione per così dire fissa comunque andiamo oltre perché in questa selezione ho inserito anche questa custodia in feltro sempre di Amazon Basic che sinceramente ho provato in passato e mi ci sono trovato molto bene anche molto resistente e ci permette di trasportare in modo comodo e soprattutto molto sicuro i nostri dispositivi come ad esempio laptop da 15,4 pollici a me c'entrava alla perfezione il MacBook Pro da 15 pollici la colorazione è il grigio chiaro si tratta di un materiale che non necessita di presentazioni qui sul retro abbiamo anche delle comode tasche che ci permettono di inserire smartphone oppure non lo so fogli, mouse e simili passa da 15,39€ a 10,77€ quindi un prezzo molto abbordabile ma andiamo oltre perché qui abbiamo questo adattatore USB tipo C HDMI che ci permette di collegare un buon numero di smartphone e di laptop a schermi esterni molto comodo anche grazie al connettore AT che può operare in spazi molto stretti e anche molto bello in quanto presenta la tipica trama intrecciata in nylon che rende il cavetto assolutamente indistruttibile passa da 17,85€ a 12,74€ un buon prezzo che difficilmente troveremo altrove poi abbiamo questo dispositivo che non ha bisogno di presentazioni si tratta sostanzialmente di una chiavetta dalla memoria un po' limitata 32GB ma molto particolare perché può essere collegata non solo a computer ma anche appunto a dispositivi Apple dispositivi iOS quali iPhone e iPad dotati di ingresso Lightning quindi non funzionerà sui nuovi iPad Pro naturalmente passa da 48,32€ a 32,49€ e per concludere poi abbiamo una classica memoria micro SDHC da ben 200GB che arriva a 39,99€ per 200GB io direi che è un prezzo più che ottimo naturalmente in confezione è presente anche l'adattatore SD standard che ci permetterà ad esempio di collegarlo ad un Mac il mio MacBook Pro ha memoria interna da 256GB un altro 200GB di memoria mi farebbero molto comodo e siamo quasi arrivati alla fine delle nostre offerte che mi appresto a concludere partendo da questo powerbank di EasyHack da 20.000 mAh con 4 ingressi USB di cui uno super veloce targato Qualcomm che ci permette appunto di ricaricare rapidamente i dispositivi compatibili con questa tecnologia abbiamo anche una torcia per un prezzo di 29,99€ anziché 39,99€ poi abbiamo quest'altro powerbank di Dodo Cool da 20.100 mAh molto particolare perché oltre ad avere due ingressi USB A anche un ingresso USB tipo C che ci permette di ricaricare molto velocemente alcuni laptop come ad esempio MacBook Pro ma anche Huawei Matebook in confezione è disponibile anche un cavetto USB tipo C USB tipo C ma anche un cavetto USB A micro USB per la ricarica dello stesso dispositivo appunto per un prezzo scontato di circa il 50% passando da 45,99€ anche questo come il precedente a 29,99€ quindi sostanzialmente il prezzo è quello dovete solo scegliere il modello per così dire naturalmente non possono mancare anche le action cam ne abbiamo già viste tantissime durante il Black Friday qui ne abbiamo ancora qualcuna di particolare come la X Pro 2 di Tec 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 mai sentita come marca sinceramente comunque si tratta di un action camera che ci permette di registrare filmati in Ultra HD 4K grazie all'ottica da 16 megapixel grandangolare con apertura a 170 gradi che nella colorazione blu, silver e yellow passa da 49,99€ a 39,99€ quindi viene scontata di circa 10€ in confezione troviamo tutti questi accessori fra cui anche il case che ci permette di immergerla in acqua e sul retro sostanzialmente abbiamo un display molto ampio però non di tipo touch infatti l'action cam può essere comandata tramite i tastini laterali oltre a questa action cam abbiamo una un po' più particolare questa di Campark con ottica da 20 megapixel anche in questo caso può essere immersa fino a una profondità di 30 metri con la custodia waterproof presente in confezione oltre a tutti questi altri accessori qui abbiamo anche il telecomandino bluetooth che ci permette di scattare fotografie e avviare la registrazione di filmati 4K Ultra HD in questo caso display di tipo touch e può essere collegata tramite bluetooth tramite wifi tramite l'apposita applicazione a smartphone ios e android ma chiudiamo questa parentesi action cam con quest'ultimo dispositivo sicuramente molto più particolare anche perché già a giudicare dalla confezione sembra molto più simile ad una gopro anche il prezzo è leggermente più elevato 105 euro e 99 il prezzo originale 79 euro quello scontato abbiamo sostanzialmente un'ottica da 20 megapixel come al solito apertura grandangolare a 170 gradi stesse premesse delle precedenti insomma niente di che anche in questo caso non può essere immersa direttamente ma necessita del case comunque ragazzi le action cam sono un po' tutte uguali poi sta a voi scegliere se utilizzare gopro o utilizzare una qualsiasi altra cinese a fine listo ho voluto inserire anche questi due notebook a partire da questo acer swift uno con display da 14 pollici ram da 4 gigabyte e 128 gigabyte di ssd interna naturalmente windows 10 home silver vi invito un attimino ad approfondire perché potrebbe essere un buon acquisto dato che passa da 493 euro a 399 euro viene scontato di circa 100 euro come viene scontato di circa 100 euro anche questo asus reversibile vediamo possiamo rigirare completamente il display da 14 pollici di tipo touch in questo caso quindi diventa sostanzialmente quasi un tablet quando si va diciamo a rigirare completamente a 360 gradi ssd interna anche in questo caso da 128 gigabyte e 4 gigabyte di ram queste sono tutte le principali offerte di oggi poi ci saranno le offerte lampo che noi naturalmente non possiamo gestire perché sono più di 8000 saranno più di 8000 e avranno una durata molto limitata usciranno nelle varie ore del giorno detto ciò io sono Rocco Zaccaro vi invito nuovamente a mettere un mi piace a questo video di iscrivervi al canale ricordando di fare un click sull'icona della campanellina per attivare le notifiche se non avete ancora capito il senso dei QR code niente riguardatevi il video dopo averlo visto tutto quanto e scannerizzate col vostro smartphone appunto i vari QR code che compariranno qui e lì sullo schermo per andare direttamente all'offerta fateci sapere cosa avete acquistato e ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Ispazio ispazio ispazio